Dopo ben sette anni di sviluppo, Egosoft è pronta a lanciare sul mercato il quarto capitolo di X-Rebirth, Space Simulation che negli anni si è fatta strada nel cuore dei fan. Con questo nuovo titolo gli sviluppatori hanno pensato di rivedere l'intera serie e semplificarne le meccaniche, in modo da attirare nuovi utenti senza rinunciare al complesso sistema economico e all'universo Sandbox, marchi di fabbrica della Software House e del franchise. La trama di Rebirth trova collocazione centinaia di anni dopo gli eventi di Terra in Conflict. L'universo non è più quello che conoscevamo, perché i portali che permettevano alle navi di spostarsi tra i vari settori della galassia si sono inspiegabilmente disattivati, isolando completamente interi sistemi stellari. A causa della mancanza dei rifornimenti essenziali, alcuni di essi sono sprofondati nell'anarchia e vigile la spietata legge del più forte. Altri invece sono riusciti ad aprire nuovi mercati, spostando l'equilibrio di potere a favore delle corporazioni commerciali. Il protagonista della vicenda è Reno Tani, un avventuriero spaziale che entra casualmente in possesso dell'Albion Skunk, un prodigioso prototipo di nave spaziale dato per scomparso. Ad accompagnare Otani nei suoi viaggi siderali è la formosa copilota Isha Tarren, una ribelle che combatte contro l'oppressiva Plutarch Corporation. La trama ingrana molto lentamente. Da un lato ci prepareremo a combattere la Plutarch Corporation, mentre dall'altro dovremo svelare il mistero che si cela dietro la disattivazione dei portali. La narrazione purtroppo incespica a caso di una serie di dialoghi confusionari, che complici dei personaggi principali poco profondi, rendono la trama noiosa e poco avvincente. Dal punto di vista del gameplay emergono subito le buone intenzioni degli sviluppatori, per un'esperienza che risulta molto immersiva. Sin dai primi istanti siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla libertà offerta al giocatore all'interno di un universo pulsante di vita, dove attorno alle enormi stazioni spaziali si assiepa un traffico inesauribile di navi e navette. Purtroppo, però, X-Rebert è afflitto da un'interminabile serie di problemi. Il difetto più grave è relativo all'intelligenza artificiale delle navi in nostro possesso. Nonostante gli ordini impartiti, capita infatti che restino inermi a fluttuare nel vuoto, come inutili pachidermi di metallo alla deriva nello spazio. A questo si aggiungono animazioni che non funzionano, quest che non si attivano, crash frequenti e un'infinita sfilza di magagne minori. Oltre ai difetti tecnici che influenzano pesantemente il gameplay, si aggiungono concept fallimentari o mal implementati. Come il menu in-game ad esempio, pensato come strumento atto a rendere il titolo più semplice e accessibile, si rivela invece disastroso a causa di difficoltà di navigazione e una scarsa leggibilità. O ancora le dinamiche legate all'utilizzo dei droni, che avrebbero dovuto sopperire alla possibilità di pilotare una sola nave e si rivelano invece dannosi, costringendoci a lasciare l'Albion Skunk in balia dei nemici. Nemmeno le possibilità esplorative all'interno delle stazioni spaziali convincono. Già dalle prime ore, infatti, ci si rende conto che il level design degli interni è soggetto a un estremo riciclo, che porterà presto alla noia. Fortunatamente, pur non facendo gridare al miracolo, almeno le dogfight funzionano piuttosto bene, con quel pizzico di spettacolarità che non guasta mai. C'è stata più di un'occasione in cui abbiamo visto un caccia nemico schiantarsi contro le enormi navi o stazioni spaziali, ma in altri casi ci siamo sorpresi di fronte a un'altra degli agguerriti inseguimenti, con evoluzioni e manovre degne dei migliori piloti. E' un vero peccato, quindi, che X-Rebert si presenti con tutti questi difetti, perché la sensazione di immersione offerta dal titolo è potenzialmente altissima. Ogni settore è pieno di vita grazie a un continuo traffico di astronavi civili e navete della polizia alla ricerca di carichi illegali. Le enormi stazioni sono sempre affollate, offrendoci infinite possibilità lavorative. Gli scenari offrono scorci mozzafiato e il mondo di gioco è in continuo movimento. Insomma, se lo sviluppo del titolo fosse stato più curato in tutti i suoi aspetti, X-Rebert si sarebbe senza dubbio assicurato un posto nel podio delle Space Simulation. Dal punto di vista tecnico, X-Rebert si presenta con una versione aggiornata del motore grafico di Terra in conflict, e i risultati sono davvero impressionanti. Nonostante vengano ancora usate le librerie DirectX 9, la resa grafica complessiva è di ottima qualità, con una cura nei dettagli a dir poco maniacale, a cominciare dalle texture e modellazione poligonale, in grado di rendere astronavi e stazioni ricchissimi di particolari, per non parlare degli effetti luce e riflessi, che rendono gli scenari spaziali davvero mozzafiato. Anche gli effetti particellari risultano di ottima fattura, con esplosioni spettacolari accompagnate da fumo volumetrico che emerge dai moduli in fiamme. Nonostante l'eccessivo riciclo a livello di design, nemmeno gli interni delle stazioni stonano di fronte alla bellezza degli ambienti esterni. Unico Neo è la povera modellazione poligonale dei personaggi non giocanti, e le scarse animazioni al seguito, in netta contrapposizione al dettagliatissimo mondo di gioco. Il comparto audio si avvale di buone tracce sonore, che pur non rimanendo impresse nella memoria si fanno piacevolmente ascoltare senza mai risultare noiose o ripetitive. Il doppiaggio, solo in inglese, è invece bene al di sotto della qualità media. Non è stato facile dare un giudizio a X-Rebert. Nonostante l'ottimo concept, le buone idee, il grande grado di immersione e un comparto grafico degno di nota, ci sentiamo in dovere a discoraggiarne l'acquisto. Il titolo si presenta incompleto e con una quantità di bug tanto elevata da renderlo praticamente ingiocabile. Egosoft sa correndo ai ripari con diverse patch, ma ciò non basterà a risolvere la situazione in tempi brevi. Quella attuale è una situazione tanto grave da consigliare a chiunque di tenersene lontano, volgendo lo sguardo verso altri orizzonti.